Se lo facciamo incazzare, se ne va, e poi speriamo il restino sull'imposto. Però Tempio Tiger non è... non so se sia facilissima per lui. Questa sera come sta facendo le clip video. Esatto, guardate come mi mangio tutti. Online, non è mai successo, stasera sono proprio fortissimi. Se vedi con l'avrà notato, le persone arrivano là e poi si perdono. Vabbè, gli sto più che bene. Secondo me sto sbloccando i trofei, i personaggi solo per... Minchia, bravo! Quest'altro è abbandonata la hobby. Ci vorrebbero le scorciatoie sgrave di CTR... Esatto, minchia, là sì che sarebbe proprio easy. Aspetta, rallento anzi a sto punto. Sono ottavo. Ahia, ma chi cazzo? Infatti l'ho dotato. Quante belle montagne... No, ma ho colpito... ho colpito questo tanano. Io ho lanciato la cosa per aprire la porta e ho colpito quello. Yeah! Ahia, bastardo, minchia. Ho colpito due con... Con una bomba sola, fantastico. Ma i primi due chi sono, scusate? Dovino. Ah, picciotti, ma allora... Sta gara si può vincere. Siamo tutti raggruppati qua dietro. Sì? Sì. È fantastico! Vabbè. Aia, aia. Allora ci dobbiamo fermare. Sto tanano, sto tanano si sta sminchendo da solo. Fantastico. No, anche sminchendo un po' di niente. È indietrissimo, è ottavo, picciotti. Vabbè. Ora la vince lui. Esatto. Oh, mi raccomando. Quindi che dovevo fare? Niente, se vi potete fermare... Ma tu sei già partito da ottavo, scusa. No, no, io ancora no. Quasi, quasi. Sto aspettando che questo tanano... Tanano è ultimo. Allora mi fermo, sono vicinissimo. Sì, 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 picciotti. Ok, mi fermo. Ok, mi metto alla linea. Ok. Ci vediamo al traguardo! Io sono quarto. A posto. Mi sono fermato. Minchia, lì mi hai pure... No, cazzo! Cazzo! Che c'è? Mi si è chiusa la scorciatoia. Perché speravo di non mi chiamassi. Non mi chiamassi, non mi chiamassi, non mi chiamassi. Non mi chiamassi, non mi chiamassi. Io pure c'ho tre missili, Liz. C'è te. Ah no, sei tu! No, compare! Cazzo! Cazzo! Lo rallento! Lo rallento! Lo rallento! A posto, a posto! Primo! Sì! C'è te! Vi amo! Vi amo! Ho rallentato tanano un bordello. Madonna tanto! Qui si è ripreso e io ho tenuto l'altro miss. Completamento gara online e di nuovo in gara! Sì! Sì! Ho finito tutte le scorsi... Le challenge! Grazie, picciotti. Io vi amo. Ma la volete fare anche voi, soprattutto? Eh, vinciamo!